Primavera 2, il Pescara di Pierluigi Iervese batte il Napoli a Cercola, risultato finale 2-0 e sale in vetta alla classifica del suo raggruppamento. Possiamo vedere le immagini, tutto in due minuti alla sessantesimo. Il gioiello di Chiarella, guardate che gol, splendido da parte del classe 2002. Il raddoppio dopo due minuti, firmato da Cucchi, albanese classe 2002 che aveva giocato all'apposto dell'infortunato Mercado, ispirato nella circostanza da Belloni. Il Pescara di Iervese è tuttora imbattuto, 7 vittorie e 3 pareggi, conquista dunque la vetta del girone con un punto di vantaggio sul Lecce. Era una gara di recupero, sabato prossimo il big match al Poggio con inizio alle 14.30 di fronte, appunto, Pescara e Lecce.